Ciao a tutti e auguri fraterni, sinceri, di buon Natale, veramente a tutti, interisti, non interisti, gente che neanche apprezza il calcio, veramente a tutti perché il Natale è una festa trasversale, che appartiene a tutti, quindi dovrebbe non avere divisioni in teoria, no? Soprattutto per quanto riguarda l'Italia, cioè, perché oltre a essere una festa religiosa, è una festa anche di tradizione, quindi va anche fuori da quelli che sono gli schemi, sono credente o no, secondo me. Voglio parlarvi di una cosa, di un'esperienza personale che ho avuto oggi pomeriggio. Entro su YouTube, voglio cercare delle cose sul Natale, delle canzoni, eccetera, perché domani è Natale, appunto, quindi non ho a che fare con YouTube o col canale, è proprio una cosa mia, privata, e mi imbatto sui consigliati in un video, il terzo video, perché non è un video, il terzo video in un giorno e mezzo, che mi va contro, dove mi si etichetta come fantozzi, come portatore di sfiga, come maledetto, eccetera, eccetera, perché questo è alla fine il contenuto. Non ho replicato mai a video, ma soprattutto a questi primi due, fatti ancora il giorno prima, non ho replicato, perché però voglio parlarvi di questa cosa adesso. Ci ho riflettuto, ho detto, caspita, ma anche alla sera della vigilia di Natale, che il Natale rappresenta un momento, ripeto, che siete credenti o no, un momento di serenità, di riappacificazione anche, no? Dove si distende un po' qualsiasi altro problema, dove si sta con i familiari, o con gli amici, o chi ti vuole bene, dovrebbe esserci un clima comunque di serenità. E invece no, anche alla vigilia di Natale si trova il modo di andare contro a qualcun altro, in maniera pubblica, in maniera cattiva, in maniera VIH, perché qui non si parla più di contenuti o di inter, si parla proprio a livello personale, si va a dare un attributo, un'etichetta, a livello meramente personale all'altra persona, quindi l'ho trovata una cosa molto disgustosa, che mi ha fatto riflettere, ho detto, caspita, potrei trovare lo spunto per fare un video che è vero, non è sull'Inter, ma ha un alto valore dal punto di vista, forse culturale, forse educativo, diciamo così, educativo. E quindi eccomi qua a parlarne. È chiaro che arrivano questi attacchi, se arrivati a questo punto, perché non c'è più la capacità di andare sulle cose che riguardano l'Inter. Penso una cosa però, che fino a che si fanno degli insulti e tutto quanto, è una cosa gravissima, c'è un abuso verbale, no? E quindi vabbè. Ma nel momento in cui si va a etichettare una persona come maledetta, come quindi portatrice di Iella o Fantozzi, no? Che questo significa, alla fine dei conti, penso che questa sia una delle cose più brutte che si possano fare verso un'altra persona. perché è l'equivalente del dire questa persona va evitata, questa persona è come se fosse lebrosa. Non avvicinatevi perché avrete delle sfortune anche voi. È una cosa terribile. È una cosa che fa sorridere ovviamente chi è cosciente di quello che sto dicendo. È una cosa talmente stupida, no? Perché non ha veramente nessun senso logico che veramente uno si mette a ridere. Però purtroppo abitiamo in una terra, in una nazione, che è comunque molto ignorante. C'è anche tanta gente che, un po' perché non ha studiato, un po' per motivi vari, crede alle superstizioni, crede a tante cose strane, ecco, no? Alla Iella, alla sfortuna. Ed è una cosa assurda perché, per esempio, se sei ateo ti metti a ridere perché non credi a queste cose. Se sei credente ti metti a ridere ancora di più perché non credi di certo a cose che esulano da Dio, perché è Dio semmai che muove, eccetera. Quindi veramente è una cosa che unisci tutti, la sfortuna non esiste, ok? È un modo di dire, è, la donna che sfortuna, però in realtà è, madonna, è andata male perché effettivamente questo e questo e questo ha determinato questo. Pazienza, la prossima volta magari non sarà più così, ma non è la sfortuna. Ci sono sempre delle cose che caratterizzano delle altre vicende. Tra l'altro, parentesi, è la prima volta della mia vita che vado a vedere un Inter non vincente allo stadio. Anzi, vi dirò di più, io non ho mai visto l'Inter dal vivo perdere e pareggiare fino all'altro giorno. Ho visto partite, non centinaia, ma una decina ne ho viste. Sono partito a vedere l'Inter nel 2002, a dieci anni, grazie a mio zio che mi portò allo stadio, direttamente a San Siro. Inter-Modena, 2-0, gol di Vieri e di Materazzi. Bellissimo gol di Materazzi, l'incrocio su punizione. Me lo ricordo ancora come fosse oggi. Quindi, per dire, ecco, a parte proprio la stupidità del contenuto, ma proprio la stupidità anche del dire che porto sfiga, perché è la prima volta nella mia vita che l'Inter non vince quando vado a vederla. Quindi, cioè, capite che è proprio una cosa scema, no? Quella che viene poi affermata in questi video. Tra l'altro, persona che quando vado a vedere l'Inter si esce dalla Champions, per esempio, se vogliamo, ma è una cosa, vi ripeto, non è una cosa sensata, anche questa, questa provocazione che ho fatto, perché non esiste la sfortuna, non c'è nessuno che porta sfortuna, ok? Però volevo ragionare su questo aspetto, perché è una cosa importante, cioè, dire che una persona porta sfortuna, come vi ho detto, equivale a volerla emarginare dal mondo, perché si dice a tutti gli altri non dovete andarci vicino, frequentarla, perché è il male, porta male, no? È una cosa terribile. C'è tanta gente, anche famosa, che si è suicidata per questo motivo, perché poi l'ambiente intorno è composto magari da ignoranza e davvero succede che ti emarginano, ed è una cosa terrificante, terrificante perché tu, che sai benissimo che è una cosa stupida questa, ti stai il doppio male, perché sei vittima, non solo di quella persona che ti difama in quel modo, ma di un sistema poi di ignoranza dal quale non puoi difenderti, perché se uno è ignorante, non capisce che quella cosa è una cazzata, e quindi ti trovi vittima di un piccolo sistema che ti danneggia senza che tu te lo meriti fondamentalmente, e se sei fragile poi cadi, cadi in dei vicoli bui, oscuri, Mia Martini si è suicidata, ma ce ne sono molti altri, potrei fare decine di nomi, voglio dire, di persone così importanti, no? Insomma, bisogna stare un po' attenti su queste cose qua, e vi invito a ragionare, YouTube è bello perché dà la possibilità di parlare a tutti quanti, però poi c'è bisogno che dall'altra parte, dell'utenza, quindi voi, che capiate chi c'è dall'altra parte, capiate anche come distinguere i contenuti, quelli che possono essere a volte dannosi, quindi mi raccomando. Io comunque mi sento di fare un augurio a questa persona che mi attacca continuamente, ormai non solo su contenuti, ma per insulti, anche per queste cose a livello personale che sono basse, ripeto, la vigilia di Natale, quindi è una cosa terrificante, poi hai gente che ti scrive per messaggio, e ti riporta le parole di questo guru, perché c'è gente che non è più iscritta, è proselite, quindi crede, è fanatica, e ti viene a scrivere a Natale, magari, le peggio cose, è una cosa terrificante, ma io mi sento di fare un augurio a questa persona, e spero che invece passi un buon Natale, con la sua famiglia, ma soprattutto un Natale sereno, secondo me ha bisogno di un po' di serenità, e io gliel'auguro con tutto il cuore, perché a me fa male vedere una persona che soffre, che sta male, che è portata a fare certe cose, quindi veramente gliel'auguro con tutto il cuore, poi anche interista, così si dice, quindi gliel'auguro che stia bene a Natale, non gliel'auguro cose negative, come non ho mai fatto a nessuno, ecco, è un messaggio che voglio dare, non a questa persona, ma a voi, cioè voglio farvi, voglio che sia un video di riflessione, mi raccomando, a tutti, la sfortuna non esiste, non permettete mai a nessuno, di dire che portate sfortuna, perché questo, nessuno, è vittima di un'ignoranza disumana, e se non è ignorante, vuol dire che è peggio ancora, perché usa l'ignoranza degli altri, per andare contro a una persona, per motivi personali, ed è ancora più drammatico, non permettetelo mai a nessuno, mi raccomando, lottate sempre per la verità, per la conoscenza, la conoscenza rende liberi, ve lo ripeterò per sempre, ok? Un augurio a tutti, buon Natale, forza Inter, mi dispiace non aver fatto il video, che avrei voluto fare, perché volevo parlarvi di una cosa, riguardo all'Inter, mi hanno anche fatto un bel video, e invece sono costretto a pubblicarne, uno di diverso, mi dispiace tantissimo, ma recupereremo, buon Natale, vi ripeto, state con i vostri cari, e state bene, un abbraccio a tutti.